Un nuovo gagliardetto per dimostrare i veri valori del club. Parliamo del Soroptimist di Agrigento che da ieri ha un nuovo gagliardetto nato dall'idea della Presidente Margherita Truppiano, la quale recentemente ha concordato l'iniziativa con la Presidente nazionale Giovanna Guercio al fine di rinnovare il modo di comunicare e il nuovo gagliardetto si presta perfettamente allo scopo. La presentazione è avvenuta a Casa San Filippo, sede del Parco archeologico Valle dei Templi. Questa sera si presenta un nuovo gagliardetto del Soroptimist, esprime chiaramente quelli che sono i veri valori del Soroptimist. Certamente abbiamo concordato con la nostra Presidente nazionale, un momento di comunicazione di quella che fosse la nostra storia e i nostri valori. L'abbiamo fatto realizzando questo nuovo gagliardetto che riporta la figura di Demetra, riporta il nostro motto e ha per noi un grandissimo significato perché dimostriamo come i nostri valori e il nostro impegno permangono al di là del tempo e lo vediamo con la presenza di questo personaggio che è Demetra. Bene, questa sera è una delle tante iniziative del Soroptimist sul territorio. Sì, abbiamo in programma tante iniziative, proseguiremo il percorso di educazione finanziaria, poi nei prossimi giorni un'iniziativa per la pace e poi ancora lavoreremo con le scuole. Abbiamo in cantiere diversi progetti ai quali stiamo lavorando, quindi insomma cerchiamo di impegnarci sul territorio così come ci chiede la nostra Unione nazionale. Allora, questa sera qui nel Parco archeologico di Agrigento una importante assemblea dei soci del Soroptimist, delle socie del Soroptimist, un interessante incontro che riguarda il gagliardetto, un nuovo gagliardetto, perché? Il nuovo gagliardetto per accelerare i tempi del cambiamento, che è il motto e lo slogan di questo biennio della nostra Presidente nazionale Giovanna Guercio. La nostra Presidente, la Margherita Truppiano, ha avuto modo di incontrare la nostra Presidente nazionale, lei insieme hanno deciso questa linea di rinnovare anche la nostra comunicazione all'esterno con un nuovo gagliardetto, che è un modo anche di incontrare altri club service e associazioni della città, è un altro modo anche per incontrare le socie e rappresentare questa volta una donna al centro del nostro gagliardetto. Noi siamo un club service al femminile, siamo tutte donne, a livello nazionale nell'Unione Italiana, dove io sono Presidente del Comitato Estensione, siamo più di 5 mila socie, club al territorio nazionale italiano sono più di 160, quindi siamo una forza e anche con questo incontro abbiamo modo poi di annunciare un'iniziativa per l'Ucraina che il club di Agrigento porterà in piazza il giovedì di questa settimana. Questa sera si presenta un gagliardetto che esprime quelli che sono i valori, Sor Optimist. Assolutamente, la nostra etica e i nostri valori sono al femminile e questa è la differenza con altri club service quali i Lions e il Rotary ad esempio, noi siamo socie donne e lavoriamo per i diritti delle donne e dei bambini che ovviamente se questi diritti sono rispettati vuol dire che tutta l'umanità, uomini e donne, una umanità, un mondo, speriamo sempre più genderless, sempre più pacifico, possa realizzarsi. Un'importante relazione la sua sul Sor Optimist, su quelli che sono i valori del club. Sì, in realtà io parlerò di Demetra che incarna dei valori ancora attuali, è una dea madre che si occupa e si preoccupa delle esigenze degli uomini, per questo è una dea benefattrice che dona agli uomini la scienza della terra e insegna agli uomini come coltivare la terra è una dea siciliana perché appunto secondo le fonti il culto a Demetra e Core, cioè Demetra e Persefone sarebbe nato proprio in Sicilia. Ecco che si propone oggi una lettura attuale di quelli che sono i valori positivi incarnati da questa figura femminile che diventa un simbolo di quello che diciamo praticamente, concretamente può essere il ruolo della donna nella società con le sue specificità e con il suo modo bello e originale di affrontare la vita. Grazie. 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 Grazie.